Ciao a tutti amici, un saluto da Martim, 1929 del Pioggia di Mostro, come creare Martin Odegaard, adesso mi fermo un attimo con le leggende del Real e della Juventus per tornare le attualità e creare il nuovo talento della Real Madrid, Martin Odegaard. Così, il nome è Martin, cognome Odegaard, la O mettendola come volete, voi vi ho messo come è realmente. Il nome sono divisa Odegaard, Norvegia, cioè Real Madrid, centrocampista offensivo, numero di maglia 16, piede sinistro, è nato il 17 dicembre del 1998, questo per quanto riguarda l'info di Martin Odegaard, poi altezza 1,76 per peso 65 kg, andiamo a lui, c'è un po' ragazzino che c'è fuori, molto molto talentoso. Allora andiamo a vedere l'aspetto. Carnagione, quella, la seconda, capelli, stile lunghezza, andiamo in corti, credo, scherzavo, andiamo in medi e a prendere ordinati, colore di capelli il primo, stile barba senza barba, sopracciglia, poi sono sopracciglia normale, forma sopracciglia così, poi abbiamo gli occhi, taglio gli occhi così, dettaglio occhi 1 un po' disteso, dettaglio occhi 2 aperta, colore occhi il sesto, orecchi, posizione orecchio normale, tipo di orecchio lobo no, naso, posizione naso quasi normale, un pochino spostato, tipo di naso normale, profilo naso così, narici basse strette, dettaglio e narici un po' strette, guance, posizione zigomi sporgenti, tipo di guance piatte, bocca, posizione bocca un po' stretta, labbra normale, stile labbra normale, mascella, stretta e bassa definita, mento, squadrato e corto, questo per quanto riguarda Martin o Edgar, è nell'aspetto, andiamo agli accessori, mettete sempre quelli che volete voi, mettete sempre, andiamo alle categorie, quelle che interessano più a voi, attacco, cross 70, finalizzazione 75, testa 50, passaggi corti 75, tiro al volo 70, piede debole 2, difesa, marcatura 35, contrasto 30, scivolata 40, abilità, dribbling 85, effetto 65, punizione 70, lancio lungo 70, controllo palla 80, movimento, potenza tiro 75, elevazione 55, resistenza 75, forza 50, tiro alla distanza intercettazione 75, movimento, accelerazione 80, scatto 85, agilità 80, riflesso 55, equilibrio 70, mentalità, crescita 50, intercettazione 50, posizione d'attacco 75, visione 80, rigori 70, portiere, tuffo 15, presa 10, rinvio 10, festamento 10 e riflesso 10. Questo per quanto riguarda ragazzi, il nuovo promesso del Real Madrid, Martin Hedegaard. Ci vediamo alla prossima, nel prossimo video ci sarà, creerò Hakim Mastur nel Milan, come mi avete chiesto voi, poi finirò di mostrarvi le leggende della Juve e del Real e poi partirò con il Milan. Mi avete fatto molte richieste, tra cui Maldini, Zambrotta, Zaghi, Scherchenko, quindi ve li crederò sicuramente, ma piano piano. I prossimi video poi c'erano Mastur, poi magari c'erano Fabio Cannavaro, Del Piero e tanti altri giocatori. Quindi ci vediamo alla prossima amici, un saluto da Robert Matri in 1909. in un'altra vedeppi, Martin Hedegaard.